Amadeus preoccupato per Fiorello. La terribile notizia giunta in redazione pochi minuti fa. Purtroppo Fiore ha. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Fiorello, il celebre comico siciliano, continua a incantare il pubblico dopo oltre tre decenni nel mondo dello spettacolo. Dagli esordi travolgenti con radio DJ e mediaset agli indimenticabili successi nazionali, il suo percorso è stato segnato da un carisma innato. Ricordato per il suo caratteristico codino e le toccanti performance canore, Fiorello ha conquistato l'Italia con la sua voce melodiosa e innata simpatia. In una recente intervista. Ha svelato la sua battaglia con l'ansia da prestazione. Purtroppo devo combattere quotidianamente con questa terribile cosa. Mi spinge sempre a dare il massimo e a fare del mio meglio. Ma a volte è veramente ossessiva. Ha dichiarato Fiore. In questo devo sempre ringraziare Amadeus. Mi è sempre molto vicino e mi sostiene sempre. La nostra è un'amicizia in tutto e per tutto. Nonostante il successo travolgente però per me la felicità è casa. Casa è basta. Ha confessato. Sottolineando la pressione di superare costantemente se stesso. La sua forza risiede nell'autenticità e nel sostegno di Susanna. Sua moglie è confidente. È lei la sua roccia. Spingendolo a perseguire la felicità. Un esempio tangibile di ciò è stato il suo show su Rai 2 durante Sanremo. Suggerito da Susanna. Che gli ha permesso di mantenere la sua autenticità nel mondo delle luci della ribalta. Fiorello ci insegna che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. E che l'autenticità e il supporto dei propri cari sono fondamentali nel perseguire la serenità e il successo nella vita. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.